Il vicepresidente del Consiglio Comunale e candidato sindaco di Agrigento Giuseppe Di Rosa ha convocato una conferenza stampa al Comune presso l'Ufficio di Presidenza. Di Rosa è intervenuto sul PAES, il Piano di Azione Energia Sostenibile, nel cui ambito sono stati concessi dei finanziamenti dalla Regione al Comune di Agrigento, a condizione della predisposizione di opportuni piani di azione. Ebbene, secondo Di Rosa, nulla è stato compiuto. Al Comune di Agrigento, l'intervista di Davide Saglia. Per sei anni Agrigento rischia di perdere i finanziamenti per quello che è il Piano di Energia Sostenibile. Ecco, di chi sono le colpe innanzitutto? Ma io spero che le colpe non siano di nessuno, perché il 31 gennaio scade il bando. Sto laggiando oggi un grido d'allarme, un grido d'allarme che ho già lanciato al Commissario, al Segretario Generale e al Dirigente del Settore. Agrigento non può permettersi assolutamente di non presentare questo piano. Agrigento ha necessità di liquidità, a partire dai lavori che eventualmente si potrebbero effettuare con questi fondi, ad arrivare al risparmio energetico. Risparmio energetico sul quale punta il mio programma da sindaco. E non è possibile assolutamente perdere per sei anni, a partire da quest'anno, dal 2015, ulteriori possibilità di attingere a fondi europei. Ecco, parliamo sostanzialmente di una mancanza di progettualità. Da chi dovevano essere redatti questi progetti? L'ufficio tecnico ha un suo ufficio che è proprio adibito a questo. A oggi è stata spettata solo una gara, la gara è stata spettata nel mese di luglio e a oggi non ci sono risultati. Ci sono 17 buste che non sono state aperte. Il mio allarme oggi deve intimare il dirigente a chiudere tutte le pratiche in essere, dedicarsi solo al Paese. Il agrigento ha necessità di poter attingere a questi fondi, i fondi sono immediatamente disponibili da parte dell'Unione Europea, sono 10 miliardi di euro a fondo perduto. Non possiamo permetterci ancora di essere l'ultima città d'Italia perché non abbiamo progettazione. Da questo io parto per risollevare l'agrigento. In tanti parlano di sanare il bilancio, in tanti parlano di eventuali nuove risorse. Le risorse sono anche queste. Non dimentichiamoci che con questo progetto potremmo rifare l'impianto di illuminazione dell'intera città a pannelli solari. L'impianto delle strutture sportive. Potremmo ripristinare le strutture sportive effettuando degli impianti fotovoltaici sui tetti degli impianti. Potremmo fare di tutto. Tutte le scuole comunali con fotovoltaico. Non possiamo perdere quest'ulteriore treno. Invito il dirigente ad operarsi immediatamente, altrimenti sarò costretto, poi alla scadenza di ciò, a proporre il dirigente e quanti ne siano responsabili per un procedimento disciplinare. E' l'azzarimento del premio di produzione per il 2014. Non è possibile che Agrigento debba continuare a subire quello che continua a subire ad oggi. Non assolutamente transigo quando qualcuno verrà a dirmi, a parlarmi di piano energetico. Se non ne presentiamo questo progetto, non si venga più a parlare a Giuseppe Di Rosa dei progetti di altri sindaci. Questo è fare politica, interessarsi e immediatamente procedere. Ho dato pure la soluzione. Si proceda immediatamente al ritiro del bando in autotutela, procediamo immediatamente con i nostri uffici. In 15 giorni si può fare. Non è detta l'ultima parola. In 15 giorni si può fare.